L'annuncio del governo di mettere la fiducia oggi alla Camera sulle unioni civili provoca le forti proteste non solo delle opposizioni. Il segretario generale della CEI, Nunzio Galantino, definisce una sconfitta per tutti la fiducia, mentre il candidato sindaco di Roma, Alfio Marchini, annuncia che se eletto non celebrerà le unioni gay. E' stato sentito dai magistrati della Procura di Potenza al sottosegretario della Presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti come persona informata dai fatti sull'inchiesta del petrolo in Basilicata. De Vincenti è stato interrogato nello stesso orario in cui era previsto il Consiglio dei Ministri. Potevamo ricorrere al legittimo impedimento, ha commentato Renzi, ma abbiamo fatto di tutto perché De Vincenti fosse a disposizione dei magistrati. Intanto la Cassazione ha confermato la condanna a 20 anni di carcere per Luca Varani, accusato di aver assoldato due uomini che nell'aprile del 2013 sfregiarono con l'acido l'ex fidanzata Lucia Annibali. Confermata la condanna a 12 anni di carcere anche per i due sicari. Ora vorrei reinserirmi nella società come una donna normale, ha commentato l'Annibali dopo la sentenza. Fermati tra la Puglia e Milano tre presunti terroristi, due afghani e un pakistano. Nei loro cellulari sono state trovate foto scattate in luoghi simbolo di Roma, Bari e Londra, oltre a diverse immagini di armi d'assalto. Secondo l'accusa si tratterebbe di possibili sopralluoghi per attentati terroristici. Vivevano nel centro per i fugiati. Sono le 7.31, una buona giornata dal nostro telegiornale. Allora, quella di oggi potrebbe essere davvero una giornata storica, una giornata importante, perché alle 14 inizia la chiama alla Camera e si voterà. Si voterà la fiducia, ci sono state tante polemiche, lo anticipavamo già nei titoli, ma si voterà finalmente una legge attesa per anni nel nostro paese, per la quale fra l'altro avevamo subito anche un richiamo dalla Europa. Avremo le unioni civili, non sono i matrimoni presenti quasi nel resto del continente europeo, ma è sicuramente un ottimo passo avanti. Inevitabili, come dicevamo, molte però le critiche e le polemiche. Diventa un caso politico la questione di fiducia posta dal governo sulle unioni civili. La Camera voterà la fiducia questo pomeriggio in un clima di grande tensione, con le opposizioni sul piede di guerra, perché se al Senato i numeri costringono il governo alle montagne russe, alla Camera dei Deputati la blindatura del testo viene considerata come un affronto. Ma prima ancora di essere approvata, la legge ha già prodotto una polemica stridente che investe il Comune di Roma e le prossime elezioni amministrative. Se diventerò sindaco della capitale non celebrerò i matrimoni gay, dice Alfio Marchini, candidato di Forza Italia e dei centristi, un modo per strizzare l'occhio ai moderati guardando al voto cattolico. Giusto ieri dal Vaticano sulle unioni civili è arrivato il giudizio durissimo del segretario della CEI, Nunzio Galantino, che parla, a proposito del voto di fiducia, di una sconfitta per tutti. È un atto politico, replica la ministra Boschi, fa parte del programma di governo. E a Marchini risponde così, ogni sindaco è chiamato a far rispettare la legge. Se il Parlamento approverà le unioni civili, mi auguro che i sindaci siano i primi a rispettarle. Ieri c'è stata anche un'altra vicenda che in qualche modo ha dimostrato la volontà politica del governo di smarcarsi dal passato. Stiamo parlando dell'audizione del sottosegretario De Vincenti, sentito appunto come persona informata dei fatti dai pubblici ministeri di potenza nell'ambito dell'inchiesta sui petrolio, l'inchiesta a tempo rossa. Nell'ora in cui è stato sentito, le 5 del pomeriggio, era in corso anche il Consiglio dei Ministri. E questo fatto è stato molto sottolineato, molto amplificato dal Presidente del Consiglio, proprio appunto per marcare, come dicevamo, una differenza. L'annuncio della convocazione di De Vincenti a poche ore dal Consiglio dei Ministri da parte dei giudici di potenza arriva direttamente dal Presidente del Consiglio in sala stampa. Renzi evita qualsiasi polemica con i magistrati, aggiunge Noi crediamo nel rispetto tra poteri dello Stato e abbiamo scelto di dare un segnale di serietà e leale collaborazione invitando il sottosegretario a non partecipare al Consiglio dei Ministri e andare a rispondere alle domande dei procuratori di potenza. Se in passato qualcuno pensava di utilizzare il legittimo impedimento per rientrare i processi, noi siamo per accelerare i processi. Si va da sentenza, si dicono i nomi e i cognomi dei colpevoli. E De Vincenti, che giorni fa era entrato anche nel toto nomine per assumere la guida del Ministero dello Sviluppo Economico che ieri è andato a Carlo Calenda, al termine del suo incontro con i giudici spiega Ho fornito tutte le informazioni richieste chiarendo le scelte di politica industriale che sono alla base dei provvedimenti del governo. Il sottosegretario era stato tirato in ballo dall'allora ministro Federica Guidi, assai critica al telefono con l'ex compagno Gianluca Gemelli, indagato per traffico di influenze sul suo viceministro, che lamentava Guidi, cercava di scavalcarla incontrando al suo posto i vertici dell'Eni o il ministro Padoan. Intanto si è saputo che un'altra convocazione della procura di potenza è arrivata anche al ministro delle infrastrutture, Graziano Del Rio, che sarà ascoltato come persona informata sui fatti, sempre nell'ambito dell'intiesta del petrolio in Basilicata. La data dell'incontro tra i PM e il ministro non è stata ancora decisa, ma potrebbe essere già la prossima settimana. Il nome del ministro compare negli atti sul filone siciliano, per quanto riguarda la nomina di Alberto Cozzo a commissario straordinario dell'autorità portuale di Augusta e su un presunto dossier che sarebbe servito a ricattare lo stesso ministro. Del Rio ha più volte precisato di non aver subito pressioni sul nome di Cozzo. Intanto ci sarebbero novità sulla questione della prescrizione, perché si va probabilmente verso un accordo in maggioranza con i verdignani, il nuovo centrodestra, appunto sulla vicenda della prescrizione, grazie al cosiddetto Lodo Falanga, dal nome del senatore appunto del gruppo di Verdini, Ciro Falanga, che avrebbe previsto una corsia preferenziale per celebrare i processi per corruzione, peculato, abuso d'ufficio e concussione, arrivando a sentenza in tempi più brevi, in modo che appunto poi il processo non decada. Quindi questo consentirebbe di non allungare i tempi della prescrizione e perché invece questa proposta aveva incontrato l'opposizione per l'appunto sia dei verdignani che del nuovo centrodestra. Vedremo come finirà. Intanto un po' di novità a livello di ambasciatori, perché il Consiglio dei Ministri, che appunto era in corso ieri, ha annunciato che l'ex ambasciatore al Cairo in Egitto, Maurizio Massari, sarà il nostro nuovo rappresentante presso l'Unione Europea. Quindi sostituisce Carlo Calenda, che come sapete ieri è diventato ministro dello sviluppo economico. In Egitto invece, visto che appunto sappiamo che il momento è molto delicato, a causa della vicenda Regeni, è stato nominato Gian Paolo Cantini, nuovo ambasciatore. Poi c'è la vicenda di Fiammaniresten, che rinuncia all'incarico, propostole di ambasciatrice di Israele in Italia. L'ex parlamentare all'epoca del PDL era stata designata lo scorso anno dal Premier Netanyahu, ma si sarebbe ritirata appunto per ragioni personali, o così almeno ha detto. Parliamo adesso di conti. Il giudizio sui nostri conti, che arriverà da Bruxelles la prossima settimana, ma anche questa apertura, diciamo così, ha una maggiore flessibilità, per la quale i commissari europei sarebbero d'accordo. Il giudizio vero e proprio sui nostri conti pubblici arriverà tra una settimana esatta, ma la Commissione europea sarebbe orientata a concedere tutta la flessibilità di bilancio richiesta da Roma. I 28 commissari sarebbero d'accordo, gli investimenti per la crescita, le riforme strutturali e i soldi spesi per l'emergenza migranti valgono lo 0,8% in più di margine di spesa. Le note dolenti arrivano però affrontando il capitolo debito pubblico. E tutti i commissari del nord Europa, i cosiddetti falchi, capitanati dal letto Nevaldis-Dombrowskis, avrebbero fatto notare e pesare il mancato conseguimento dell'obiettivo di una riduzione. Secondo le previsioni di primavera di Bruxelles, l'indebitamento italiano resterà nel 2016 al 132,7% delle PIL, esattamente come nell'anno precedente. Per questo, a legge sull'Italia, il possibile avvio di una procedura per deficit eccessivo, stesso rischio per Francia, Spagna e Portogallo. Ma alla fine si potrebbe raggiungere un compromesso che accontenti tutti e che salvi il rapporto tra Renzi e Juncker, che ha vissuto una fase molto critica, con delle schierite tuttavia nelle ultime settimane. La figura chiave in questa delicata trattativa sarebbe Angela Merkel, consapevole che Roma ha appoggiato l'accordo sui migranti con la Turchia, che ha di fatto chiuso la rotta balcanica, mentre non ha ottenuto altrettanto in Libia. La soluzione, insomma, potrebbe essere quella del richiamo formale e relativa concessione di uno slittamento del rispetto degli impegni sul debito. Parliamo ancora di soldi, ma in realtà quelli che i cosiddetti furbetti dell'Inps, se vogliamo così definirli, ovvero quegli imprenditori che hanno truffato, perché questo è l'Inps dicendo che cercando di prendere appunto i soldi delle agevolazioni contrattuali favorite dal Jobs Act, beh, sono stati scoperti, come sapete, per fortuna non tutti i soldi erano già stati versati, quelli che sono stati dati, promette l'Inps, verranno recuperati, probabilmente ci saranno a questo punto anche delle sanzioni, quindi saranno anche qualche cosa in più, però resta un problema di fondo, le persone assunte non sono tutte quelle che le statistiche ci raccontavano, se detto ci sono anche le truffe. I furbetti del Jobs Act, potrebbero chiamarsi così i capi di 60.000 aziende che grazie a 100.000 assunzioni fasulle l'anno scorso hanno incassato una parte dei contributi triennali da 8.000 euro previsti nella legge di stabilità 2014. A stanarli sono stati gli ispettori dell'Inps, calcolatrici alla mano, 8.000 euro per tre anni fanno 24.000 euro, la quota prevista per ogni posto di lavoro. Providenziale per la legalità, l'incrocio dei dati dell'Istituto di Previdenza con quelli dell'Agenzia delle Entrate, che ha permesso di salvare i 600 milioni complessivi che, come ha sottolineato il presidente dell'Inps, Boeri, rischiavano di sparire nel nulla. Finora le aziende in questione avevano beneficiato di circa 100 milioni che l'Inps conta di recuperare al più presto. Il restante mezzo miliardo, per fortuna, non era ancora stato erogato. Ad usare la decontribuzione, sostiene il ministro del Lavoro Poletti, sono state tantissime imprese che hanno rispettato le regole. I 400.000 posti di lavoro resistabile col Jobs Act restano un grande risultato. Già nei giorni scorsi, però, i numeri scricchiolanti della legge di riforma del mercato del lavoro avevano suscitato critiche. Nel 2015 sono stati spesi 6 miliardi e 100 milioni per creare solo 100.000 veri nuovi posti, aveva denunciato la CGL. Se le norme sono così facilmente aggirabili, vuol dire che sono anche state scritte male, ha rilanciato ieri. È il segno che più che una ripresa economica, nel paese è in corso una ripresa dei fondelli, ha denunciato il segretario della UIL, Barbagallo. L'Inps va davanti coi controlli, ma le decontribuzioni comunque funzionano, dicono dalla CISL. Il presidente dei deputati di Forza Italia, Brunetta, chiede al premier Renzi di riferire in Parlamento sul caso. Oh, e non c'è pace per il Ministero dello Sviluppo Economico. Le agenzie stanno battendo la notizia che in questo momento ci sarebbe un incendio che sta per appunto interessando il quarto piano del palazzo di Via Sicilia, dove c'è una delle sedi del Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Ci sono cinque squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per cercare di domare le fiamme. Insomma, vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Intanto noi parliamo invece di una sentenza che è arrivata ieri sera, una sentenza importante riguarda la vicenda di Lucia Annibali, l'avvocata di Pesaro sfregiata tre anni fa dall'ex fidanzato che è stato condannato come mandante di questo sfregio a vent'anni. Sono emozionata, ora si apre una pagina nuova della mia vita. Con queste parole Lucia Annibali ha commentato la sentenza ormai definitiva della Cassazione che ieri ha confermato la condanna a vent'anni per l'ex compagno Luca Varani. Il 16 aprile 2013 l'uomo aveva soldato due albanesi con il compito di sfregiare il viso dell'avvocatessa di Urbino. La decisione dei giudici del palazzaccio è arrivata dopo cinque ore di Camera di Consiglio. La sentenza di appello è stata riconosciuta valida per tutti i capi di imputazione, tentato omicidio, lesioni gravissime e stalking. Il procuratore generale infatti ha ritenuto infondata ogni richiesta riguardo all'entità della pena avanzata dai legali di Varani che nel ricorso chiedevano non gli venisse contestato il reato più grave di tentato omicidio. Il magistrato aveva sottolineato come tutto quello che è stato scritto sulla responsabilità di Varani proprio sul tentato omicidio si tiene con ogni elemento raccolto. Il possesso delle chiavi, la mancanza di alibi, il movente e la manipolazione del tubo del gas a casa di Lucia Annibali. Definitiva anche la condanna, ridotta da 14 a 12 anni per i due sicari riconosciuti colpevoli di aver eseguito l'aggressione per conto dell'avvocato pesarese che aveva deciso di infliggere la punizione che secondo lui la donna meritava. Lucia non era disposta a ricominciare un rapporto che riteneva finito. Andiamo a Bari adesso per cercare di capire meglio i contorni di questa vicenda, di questi arresti ma anche dei due latitanti che mancano appunto all'appello persone accusate di terrorismo internazionale giovedì cioè domani ci sarà l'interrogatorio di garanzia ma nel frattempo si studiano le carte. Ancora un'operazione contro il terrorismo di matrice religiosa l'ennesima nel quadro delle attività per prevenire attacchi sul territorio italiano. Due fermi a Bari, un terzo a Milano al termine di una indagine durata un anno svolta dai carabinieri e coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari competente per i possibili cosiddetti reati eversivi di natura confessionale. I tre fermati sono presunti terroristi di parte di una rete internazionale composta da cinque persone due sfuggite alla cattura forse già ripartite verso l'Afghanistan. Secondo gli inquirenti erano in grado di progettare attentati in Italia, Francia, Belgio e Inghilterra. I due afghani e il pakistano fermati sono accusati di terrorismo internazionale e traffico di esseri umani. Nei loro cellulari c'erano fotografie di luoghi considerati possibili obiettivi navi militari, un centro commerciale, l'aeroporto di Bari ma anche una selfie scattata da uno di loro, Nasiri Hakim, con il sindaco del capoluogo pugliese De Caro, scattata durante una manifestazione sindacale particolare abbastanza sconcertante. Solo pochi giorni fa l'uomo aveva ottenuto un permesso di soggiorno valido per tre anni. Tra gli altri indizi anche foto di armi e filmati inneggianti alla Jihad. In una intercettazione uno dei tre, particolarmente attivo nello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, diceva questi dell'Isis con i loro attentati poi si chiudono le frontiere e ci creano problemi. Scoperto anche un registro contabile con le cifre pagate dai migranti arrivati in Puglia. Tra gli altri elementi raccolti ci sono conversazioni in cui si parla secondo i magistrati di un traffico di documenti falsi più che sufficienti secondo gli inquirenti per far scattare i provvedimenti. Questa notte si è votato ancora per le primarie negli Stati Uniti in West Virginia, uno stato piccolo non erano moltissimi delegati in palio ma insomma per il campo repubblicano non c'è storia si sono ritirati tutti quindi ovviamente ha vinto Donald Trump invece in ambito democratico ha vinto Bernie Sanders ma la ripartizione dei delegati era proporzionale quindi qualche cosa ha portato a casa anche Hillary Clinton che va più sicura verso una nomination. Non è l'unica notizia però che arriva dagli Stati Uniti. Ce n'è un'altra di insomma portata storica decisamente maggiore riguardo al Presidente Obama e la sua annunciata visita a Hiroshima. Dopo l'Iran dopo Cuba c'è un'altra montagna che Barack Obama ha deciso di scalare per imprimere ancora più a fondo il proprio nome nella storia delle relazioni diplomatiche statunitensi. La visita di Hiroshima da Presidente in carica degli Stati Uniti una prima volta per il successore di chi dalla Casa Bianca diede l'ordine di sganciare la bomba atomica su quella città del Giappone al termine della Seconda Guerra Mondiale. Il 27 maggio Obama sarà lì e arriverà a quella tappa al termine di un viaggio altrettanto rilevante dal punto di vista storico e che in precedenza lo porterà anche a Danoi e a Do Chi Minh in Vietnam. Il premier giapponese Shinzo Abe potrebbe poi ricambiare andando presso a Pearl Harbor nelle Hawaii dove si trova la base americana attaccata dai caccia nipponici che provocarono l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Una visita che secondo i ben informati dovrebbe avvenire a novembre quando Abe si recherà in Peru per il vertice dell'APEC e i paesi della cooperazione economica asiatico-pacifica. La destra americana in piena campagna presidenziale ha già definito il decimo viaggio in Asia di Obama dal 21 al 28 maggio un vero e proprio apology tour il viaggio delle scuse cioè un altro segno di debolezza secondo molti repubblicani di un'amministrazione da sempre considerata debole verso i nemici dell'America Cina compresa. Ma lo staff presidenziale si è affrettato a far sapere che Obama non intende chiedere scusa per gli ordigni nucleari che chiusero la Seconda Guerra Mondiale provocando oltre 200.000 vittime e danni incalcolabili anche per le generazioni future delle aree di Hiroshima e Nagasaki. Truman prese la decisione di usare la bomba atomica di Hiroshima per motivi giusti per far cessare una guerra terribile ha ribadito il portavoce della Casa Bianca davanti al Memoriale della Pace il Presidente degli Stati Uniti invece lancerà un nuovo forte appello alla non proliferazione delle armi nucleari e all'assunzione di responsabilità da parte della comunità internazionale per un mondo sempre più sicuro e pacifico E' il momento di parlare di sport o meglio di sport e di finanza della sorte del Milan perché Berlusconi avrebbe dato il via libera alle trattative con i cinesi per l'acquisizione appunto della squadra Non è ancora l'atto finale della gestione dell'ex cavaliere ma senza dubbio si tratta di un importante passo verso l'addio il gruppo cinese che fa capo fra l'altro al colosso di internet Alibaba ed ai proprietari del Guangzhou ha ottenuto l'ok dal consiglio d'amministrazione Fininvest per trattare in esclusiva l'acquisto del 70% del pacchetto Non è proprio stata una decisione difficile da prendere La riunione è durata poco più di mezz'ora Oltre a redigere un protocollo di intesa le parti si sono date un periodo di un mese e mezzo per negoziare sulla base di un prezzo attorno ai 500 milioni di euro E' allora destinato a rimanere sulla carta l'auspicio del presidente che risale a venerdì scorso di cedere il club rossonero ad una cordata italiana parole che in effetti non erano piaciute ai rappresentanti del gruppo cinese impegnati in una trattativa senza dubbio a buon punto ma dall'esito ancora incerto Fininvest infatti non ha voluto che l'accordo fosse vincolante quindi in qualsiasi momento la società di Berlusconi può ripensarci e tornare pienamente in possesso del Milan non siamo ancora di fronte alla svolta decisiva data la complessità dei negoziati e l'altissimo valore economico del club potrebbero quindi passare mesi prima di arrivare all'eventuale fumata bianca quella che potrebbe davvero chiudere il trentennio berlusconiano ed aprire una nuova era in pratica un copione simile a quello già visto ma terminato senza alcun risultato con il broker Mr. B accolto in Italia con tutti gli onori ma ormai scomparso dai radar 7.51 al volo la linea Paolo sotto corona per le previsioni del tempo poi Gaia Tortora alla conduzione di Omnibus e noi invece ritorniamo come sempre alle 6 e mezzo del mattino quando vi svegliate noi ci siamo buona giornata